Viviamo in una società in cui tutto è frenetico Stop Ed ora? Ed ora siamo obbligati a fermarci Smettere di andare al lavoro, smettere di uscire a fare una passeggiata Smettere di vedere i nostri amici, smettere di andare al bar il sabato sera Smettere di fumare quella sigaretta in compagnia Smettere di vedere la nostra ragazza O il nostro ragazzo Insomma, smettere Pensate a quanto è bizzarro Siamo obbligati a reinventarci E non intendo reinventare solamente la nostra giornata Ma reinventare noi stessi Siamo spinti nel bisogno di dover trovare qualcosa da fare Per combattere il tempo che è Che in questo caso sembra proprio il nostro nemico più grande Riscoprire noi stessi Ecco forse cos'è questo momento Capire cosa ci piace fare Trovare degli hobby Rispolverare vecchi ricordi O addirittura recuperare qualcosa che sapevamo fare Che a causa della freneticità Non abbiamo più potuto portare avanti Imparate a suonare uno strumento O provate a scrivere quello che vi passa per la testa Provate a fare qualsiasi cosa E trovate quel piccolo momento Che vi fa stare bene Sì è vero Sono d'accordo con voi Questo isolamento è veramente pesante Ma cerchiamo di conoscere meglio noi stessi Vi voglio bene Ciao